Beh assolutamente sì, un modo diverso di presentarsi, non solo sci ma anche attenzione alla cultura, alla tradizione trentina e alla storia. Siamo in un paesaggio, devo dire, fiabbesco, la curiosità di vedere questi presepi oggi è veramente importante, devo dire che stanno arrivando già molti turisti e questo dimostra la bontà di questa manifestazione che dura ormai da molti molti anni.